Io non pensavo assolutamente di diventare sottosegretario, perché ero ancora quasi alle prime armi della vita politica, Begaspoli mi aveva molto gratificato, ero suo portavoce nei rapporti con la stampa e nelle relazioni con il giornale della democrazia cristiana e il popolo. Però in questo momento di svolta, nel senso che per la prima volta si faceva un governo non più con tutti i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, ma con socialisti e comunisti che passavano all'opposizione, era un momento particolarmente impegnativo e Begaspoli vuole probabilmente avere vicino uno che non gli creasse comunque problemi, Cap era un vecchio parlamentare, un grosso avvocato, io forse ero più docile, ero più malleabile, qui nasce questa scelta che De Gaspari fece. Naturalmente io in parte ero terrorizzato, perché poi ci sono venuti molti commissariati, altri ministeri, lo spettacolo, il turismo, ma allora tutto faceva capo alla presidenza del Consiglio. E accanto al lavoro principale che era la segreteria del Consiglio dei ministri, preparare il Consiglio, fare i verbali del Consiglio e curare poi che ci fosse l'esecuzione. Il rapporto con il Parlamento era un'incombenza abbastanza importante. E c'era poi questa serie di problemi dell'ex cultura popolare. Naturalmente erano affascinanti, la grande preoccupazione, perché li conoscevo da spettatori, non di più. Problemi alcuni anche massicci, la crisi del teatro lirico che bisognava assolutamente evitare che andasse in avaria. E la parte del cinema che era più o meno giustamente, poi vedi che non era molto giusto, anzi. Ma era considerato quasi un qualche cosa che apparteneva al vecchio regime e quindi non occorreva più occuparsene. C'era il momento ormai del grande rivincere il film americano, perché per molti anni non erano venuti e nel dopoguerra c'era l'invasione di film americani. E così nasce questa mia esperienza anche nel campo dello spettacolo, che non avrei mai immaginato nella vita di dover fare. Probabilmente io credo che, siccome c'erano spinte anche per altri, alcuni altri ex parlamentari erano lì in lista di attesa, allora prendendo uno completamente fuori e poi probabilmente non che non si potesse fidare degli altri, ma sapeva che io non avevo né interessi miei né rivincite o risentimenti per il passato. Non me ne immaginavo. Qualche giorno prima Kappa mi aveva domandato, ma è vero che tu sarai sottosegretario? Ma chi ti fa venire in mente queste cose? Veramente non me ne immaginavo. Poi dopo molto tempo seppi anche che chi aveva consegnato De Gasperi era stato Monsignor Montini. Lui era molto amico di Montini perché il padre di Montini era deputato insieme a De Gasperi, di quelli che erano stati messi fuori gioco, e aveva conservato con Montini delle relazioni. Montini a sua volta era stato il nostro assistente della Federazione Universitaria Cattolica, di cui ero presidente, e in questa veste poi avevo conosciuto De Gasperi. Questo fu un momento del 1947, poi andai avanti fino con De Gasperi, fino all'ultimo governo in cui purtroppo avvenne l'abbandono a De Gasperi e dei partiti alleati, perché Sargas era messo in testa nel 1953 che De Gasperi si stesse alleando con Nenni, e non era vero nemmeno lontanamente, però non appoggiò il governo e nel luglio del 1953 De Gasperi fu sconfitto alla Camera, dopo che dal 1945 dirigeva i governi, appunto prima con tutti i partiti e poi soltanto con la democrazia cristiana, socialdemocratici, liberali. Io forse, un po' d'altro ne abbia visti anche degli altri prima, ma mi ricordo che mi rimassero impressi dei film musicali con Jean Kipour e Martha Eggert, forse lui non dice assolutamente niente, a me piaccero molto perché erano con una colonna sonora molto bella, molto affascinante, questi mi sono rimasti impressi al vecchio Cinema Olimpia, che era un passo da casa mia, una lira, film, topolino e film luce. Ma probabilmente mio fratello che aveva sei anni più di me e qualche volta, una volta mi ricordo, al corso Cinema mia madre mi accompagnò, ma quali film e video non lo so, sono passati moltissimi anni. poi successivamente ho preso ad avere una certa passione, alcuni film li ho visti anche tre volte, il dottor Jekyll per esempio, l'ho visto tre volte, mi impressionava, il film in fondo era l'unica ricreazione che si poteva avere. Poi nella vita anche di persone a doppia faccia ne ho conosciute anche parecchie, anche se poi hanno meno notorietà del dottor Jekyll. Comunque dal punto di vista drammatico era un film molto toccante, molto attraente. C'era una visita di quelle visite guidate, andiamo con un gruppo di studenti perché c'era una certa attrazione, andare a vedere com'era all'interno Cinecittà e come nasceva un film. Tra l'altro c'è anche una cosa abbastanza divertente perché c'era un muro in cui c'era scritto Viva il comunismo e con noi ragazzi ci mettevamo lì a salutare con il pugno chiuso, ma per farli spiritosi, almeno io non avevo nessunissima, né allora né poi, attitudine ad essere comunista. Quella era una visita che però ricordo perché era molto attraente vedere, anche se poi dopo ci sono stati una serie di progressi, poi ho visitato gli stabilimenti in America, anche con tutti gli effetti che lì per lì non immaginavo nemmeno che esistessero, gli effetti speciali così, però sono rimasto affezionato poi a Cinecittà. Nell'immediato dopo guerra, poi dopo, ebbe occasione, tra gli altri, Blasetti, Camerini, ebbe occasione con loro di trovarmi De Sica, perché è nato a Sora, fra l'altro, perché c'era questo piccolo aggancio, ma era un mondo che certo io consideravo una specie di privilegio il poter vedere da vicino, perché nel passato era solo dalla platea, si vedevano queste persone, o il prodotto di queste persone, ma è un mondo però che era interessante e mi convinzi della necessità di farlo riprendere e di vederne come uno strumento di presenza italiana importante, anche di esportazione. Gli uffici del sottosegretario erano al palazzo del Viminale, dove allora era la presidenza del Consiglio e il Ministero dell'Interno. Al quarto piano c'era lo studio del sottosegretario, però tutto quello che faceva a capo invece all'ex cultura popolare rimase in via Veneto negli studi che erano allora appunto del Ministero della Cultura Popolare. E io li frequentavo pochissimo, per la verità, li frequentavo solo quando c'era la necessità della saletta cinematografica. Per il resto venivano da me alla Presidenza a parlare in modo particolare Nicola De Pirro, che è stato recuperato. De Pirro era stato direttore generale del teatro ed era stato depurato insieme ad altri. Ci fu veramente un moto corale perché fosse chiamato in servizio, perché tutti ne avevano grandissima stima come competenza e assoluta onestà. E lui non voleva tornare, era un po' offeso probabilmente di questo trattamento che l'amministrazione aveva fatto. Poi tornò e devo dire è stato molto bravo perché nei vari... Per fatto che poi era molto spiritoso, non so, nelle riunioni dei sovrintendenti dell'Opera, il sovrintendente della Scala, Ghiringhelli, che era un industriale calzaturiero. E mi ricordo, diciamo, lui per esempio, a un certo momento dicendo adesso lei smetta, lei si intende di scarpe ma di teatro ne sa molto meno di metodo. Ecco, per dire il modo un po' franco con cui De Pirro... E poi De Pirro raccontava anche le cose divertenti che erano capitate proprio per questo suo carattere. Durante il fascismo, per esempio, una volta era stato denunciato alla commissione di disciplina perché come motivazione aveva scarsa fiducia nella lira. E invece aveva detto una frase spiritosa, aveva detto Corrono tempi tristi per i possessori dei buoni del tesoro, ma sono tristi ancora di più per quelli che non ce l'hanno nemmeno. Quindi era una frase che forse si potrebbe anche applicare adesso, credo, a questo. Tornando al mio lavoro, naturalmente c'erano alcune cose che bisognava farle di persona. Per esempio la presidenza della commissione di censura, di revisione, il presidente era il sottosegretario e con due membri soltanto. Uno rappresentava la magistratura e l'altro rappresentava il mistero dell'interno. Quando si doveva fare, ma per fortuna erano pochissimi i casi, allora facciamo la sera alle 10 e andavo nella saletta. Poi la saletta invece l'utilizzai spesso di domenica a poveriggio per vedere film insieme agli amici, Giulio Onesti. All'inizio non ero spostato, poi si sposò di suo amore, di mia amore, di qualche amico e la cosa importante erano gli archivi. E lì ebbe una lezione da De Gasperi di costume molto bella. A un certo momento un funzionario aveva trovato l'elenco degli uomini di cultura che ricevevano un sussidio mensile, alcuni anche rilevanti. E in queste legge fra l'altro non c'era nessun democristiano, diventato poi democristiano, mentre c'erano parecchi di quelli che ci facevano scuola di che cos'era la democrazia. Questo lo portò a De Gasperi pensando che De Gasperi si stava bravo. E De Gasperi disse, senta, queste cose devono rimanere assolutamente nell'archivio, perché ne farebbe una cattiva figura la cultura italiana. La politica non c'entra niente in queste cose. Però fu un po' frastornato perché pensava di ricevere una lode. E certamente negli archivi, fra l'altro negli archivi troveva anche il sequestro che c'era stato, ma non immaginavo che ci fosse una notazione di Matita Obleu di Mussolini. Il giornale che io dirigevo, Azione Fuscina, perché avevano fatto un giorno una rubrica sulla guerra e c'era una corrispondenza di un cappellano di Marina, che poi li venne cardinale, Pignedoli, che diceva si può benissimo fare il proprio dovere senza odiare nessuno. Siccome in quei giorni, non perché era voluto, Mussolini aveva fatto un discorso che bisognava odiare gli inglesi fino alla terza generazione. Non si sa perché la terza, no, la quarta o la seconda. E allora fummo sequestrati, anzi sospesi, perché ritenevo che fosse una polemia e non c'entrava niente, quello era mandato dalla nave dove era imbarcato e non sapeva nemmeno che Mussolini avessi eletto questo. Poi intervenne Monsignor Montini e dopo un mese ci fece riuscire. Però ho trovato questa cosa con l'annotazione in Matita Obleu di Mussolini. Mi ha fatto anche il prezioso, perché con tutto quello che aveva a fare si occupava anche del nostro giornale di università. Forse era meglio così, ma se si occupava forse un po' più della guerra fa andare in modo meno disastroso e lasciando perdere il giornalismo degli universitari cattolici sarebbe stato meglio. Comunque, certamente l'insieme del lavoro, sia pure per una parte, era curato, il turismo, era curato da un commissariato, c'era un commissario al turismo, allora quello io non mi occupavo assolutamente. La piccolissima saletta delle proiezioni a piano terra di questo edificio di Via Veneto poteva contenere con comode poltrone 12 persone, non di più, quindi non era nemmeno moltissimo gratificante come aria, perché in quegli anni ancora il riscaldamento, l'area condizionale non esisteva, per la verità, ma il riscaldamento dell'estate, l'inverno era piuttosto approssimativo, però l'età di molti di noi ci faceva passare sopra a questo. e io ho un ricordo buono, perché per parecchi anni ci ho vissuto molto. Perdevo qualche volta qualche appunto, ma senza, mi so, bastava la luce riflessa nel proiettore. Ma quello che era noioso era perché c'era, per il contributo statale, c'erano i film di qualità e i film non di qualità, allora come si faceva questa distinzione? E c'era, lì c'era un comitato, ma nel comitato c'erano alcuni che, dico romanescamente, dei pignoli, per esempio ricordo uno che come professore era bravissimo, un professore di università, Antonino Pagliaro, lui non gli importava niente di niente, però si puntava per esempio se uno diceva, invece di Celestino diceva Ceruleo, allora la qualità secondo lui c'era o non c'era. Quindi dovevamo fare anche un po' i conti. Mentre invece poi i rappresentanti delle categorie erano per dargli a tutti, insomma la qualità di primo grado. Queste erano delle cose, a me tutto sommato poi interessava, e vedevo dei film poi, però penso che Pondo può darti qualche errore sia stato fatto, ma la cosa importante è che io non ricevetti raccomandazioni in quel campo, forse perché le categorie erano rappresentate, allora parlo del giudizio di qualità per le due categorie, ma per il resto c'erano molti problemi, derivava dalla difficoltà di far capire che doveva essere finanziato il mondo del cinema e il mondo della lirica e senza questo non avrebbe avuto la possibilità di riprendersi e di continuare. Ma più che uomini era un po' direi un ambiente diffuso ad avere poca propensione nel ritenere direi prioritario un certo tipo di spesa di questo genere, sotto la spinta di tante cose che c'erano e che avevano bisogno del sostegno e anche con una comparazione che si faceva forse anche un po' polemicamente, ma come mai? Per esempio i libri voi non li aiutate, i libri è uno sforzo intellettuale, allora c'era da obiettare ed era facile che c'era tutto un ritorno di lavoro che c'era attorno in modo particolare al cinema, ma anche attorno alla lirica, c'era un'occupazione qualitativa, anche occupazione di massa, perché quando girava un film con molte comparse era un modo anche di contribuire a dare lavoro. Aiutò molto nel superare queste difficoltà e anche nel superare un'obiezione politica, perché c'era un certo sinistrismo diffuso, molto era di maniera, quello che poi finì con crearmi amicizia con Sordi, perché Sordi sfotteva questi e diceva, questo qualche anno dopo, ma Sordi quando diceva a questi vanno in corteo con i metà meccanici, però se il produttore non gli dà una parte dei compenso in nero in Svizzera, mica lo fanno del film. Allora c'era un po', direi era diffuso abbastanza questo, a sette anni a mangi, ci faceva il comizio in piazza, e allora questo creava nel nostro ambiente, l'ambiente che abbiamo moderato, ma perché dobbiamo aiutare questa gente che poi è contro di noi, però questo fu superato bene e aiutò anche un certo lavoro dei sindacati. Il sindacato dei lavoratori dello spettacolo, sia la parte, il sindacato chiamiamo Bianco, io ricordo il presidente dei nostri del sindacato Bianco, Renato Capugi di Firenze, e del sindacato della CGL, Guido Berardelli, Guido Berardelli che allora era sindacalista, lui era stato sindacalista anche prima, insomma, dello spettacolo anche nel periodo del ventennio, per la verità, era un tecnico del sindacato, e lui per esempio nella discussione della legge sul cinema preparò un bellissimo discorso a Di Vittorio, Di Vittorio, il grosso sindacalista della CGL, fece un discorso bene, motivato, in modo che cercava di superare questo modo un po' di polemica, un po' semplicistica che c'era, però c'era in Parlamento, in modo particolare, c'era stata l'Assemblea Costituente, il peso di noleggiatori e esercenti ai quali non interessava niente il film italiano, perché a loro interessavano film che chiamassero gente e che facessero cassetta. Allora, questo fu un ostacolo da superare, e lo si superò. Io fui molto fortunato, perché proprio per muovermi, fra l'altro in un settore che conoscevo niente, cercai di avere una collaborazione dei rappresentanti delle categorie, e le tre categorie, i produttori, i noleggiatori e gli esercenti, per fortuna avevano a capo Eitel Monaco, Franco Penotti e Italo Gemini, persone notevoli, che trovarono una certa concordia tra di loro, e allora nacque la spinta per il sostegno anche finanziario alla produzione e il sostegno attraverso le giornate di programmazione obbligatorie, che era l'altro modo con cui si favoriva la proiezione di film nazionali. Questo è insomma il zucco di quel periodo, dove man mano poi, a cominciare dalla ripresa di Cinecittà, c'era da ricominciare da capo, anzi da meno che zero, dato che c'era stato tutto il guaio della guerra. Certamente i film come Roma città aperta erano non solo belli dal punto di vista artistico, ma commoventi, specie per chi aveva poi vissuto quel periodo. Naturalmente che cosa c'era? Che il sottofondo di carattere politico, quello che in altri momenti ci accenno per altri aspetti, ma c'era sottofondo che sembrava una certa polemica ispirata più a sinistra, direi, che non con una certa obiettività. Allora questo, io alcune volte mi sono poi autodefinito, un assino tra i suoni, perché da un lato dovevo difendere la necessità dell'aiuto pubblico e dall'altro dovevo però fronteggiare le critiche di chi, per ragioni o comparative sui vari tipi di spese, oppure perché diciamo, ma questi fanno i cortei contro di noi, non dovrebbero allora cercare di aiutare. E fesi anche un intervento, poi mi è sembrato anche esagerato come risultato, ma provocò molte polemiche, perché c'era stato il film di De Sica su Umberto D., sui pensionati, poi c'era stato il film sui ladri di bicicletta, insomma, allora io, benissimo, il neorealismo è una cosa giustissima ed è, per carità, un filone culturale più che produttivo, però l'Italia, e anche l'Italia, gli stili di Don Bosco, l'Italia di Forlanini, che inventa il pneumotorace, qualche volta ispirate pure a qualcosa di diverso, l'Italia non è soltanto del pensionato che muore di fame, è indeire, perché naturalmente, e capivo la polemia, perché naturalmente poi c'è chi prendeva, però la cosa importante è che sul piano personale, invece è stato tutto un mondo con cui ho avuto allora, poi con molti ho anche conservato, dei rapporti molto buoni, quando poi io lasciai nel 54, lasciai, beh, ho avuto delle manifestazioni di grandissimo affetto, e con alcuni poi ho continuato per anni ad avere dei rapporti molto belli, insomma, ma in quel momento fu un momento difficile, però senza dubbio che il valore dei film di quegli anni è stato tale che abbiamo potuto anche nel mondo, sia pure con le difficoltà del doppiaggio nei confronti dei film italiani, ma abbiamo avuto nei festival più importanti, le manifestazioni di apprezzamento, di stima, una serie di premi, io credo che bisogna avere, allora per la parte che io possa aver contribuito, ne sono contento, naturalmente però il merito era di coloro che dettono vita a questi film, il dottor Jekyll di Mamulia con Spencer, non con Spencer Tracy, con Frederick Marce, no, non era Spencer Tracy, è Frederick Marce, è Frederick Marce, ho detto, è Frederick Marce, è Frederick Marce, non mi sono accorto, ma io ero inquieto, l'ho detto così, è Frederick Marce, è Frederick Marce, è Frederick Marce, no, no, buon viso, molto certo, sì,